Assessore, temi sul tavolo a questo secondo incontro dopo la nomina dei presidenti delle ALER. Come avete deciso, ogni 15 giorni ci sarà una riunione. Sì, ogni 15 giorni noi ci troveremo per fare il punto della situazione, per capire quali sono le difficoltà che eventualmente incontrano questi nuovi presidenti nelle varie ALER. Perché loro hanno questo doppio ruolo. Loro saranno presidenti della loro macro ALER, ma saranno anche commissari di quelle che sono le ALER incorporate. Perciò sarà un doppio lavoro, una doppia funzione particolare. Perché, come voi sapete, i commissari possono solamente fare e decidere azioni di ordinaria amministrazione. Perciò per qualsiasi azione di straordinaria dovranno comunque chiedere il beneplacido a Regione Lombardia. Il compito che si apprestano a svolgere non è un compito da poco. Devo dire che siamo stati tutti molto soddisfatti perché, vedete, quello che poteva essere il nostro obiettivo, cioè il risparmio veramente, il dimostrare che la politica sa anche veramente tagliare le poltrone, Ecco, questo è stato fatto perché solo tenete conto che i 13 consigli di amministrazione costavano alla comunità quasi 5 milioni di euro e a oggi siamo a 249 mila euro per i 5 presidenti. Anche per quanto riguarda i direttori ci saranno dei tagli ai loro stipendi. Teniamo conto che la responsabilità c'è, cioè comunque il loro lavoro sarà un lavoro di grande responsabilità, però teniamo conto del numero degli alloggi che dovranno gestire, della difficoltà della gestione di queste ALER. Come potete immaginare la situazione di ALER Milano è comunque quella più problematica, una situazione drammatica. Voi sapete che solamente per quanto riguarda le ristrutturazioni di questo patrimonio siamo quasi a un miliardo di euro per riqualificare il patrimonio delle ALER, di questi alloggi che sono veramente faticenti. Sono soldi, sono tanti, ma se quelli sono i problemi, come dire, a lunga scadenza, perché su ALER Milano gravano 48 mutui che però hanno scadenze fino al 2042, i problemi sono nell'immediatezza, vale a dire quelli che potevano essere appunto gli stipendi, quelli che potevano essere i debiti verso fornitori. A quelli stiamo dando una risposta, la Regione Lombardia ha comunque messo mano al portafoglio. C'è da dire che non è da sottovalutare che siamo quasi a 300 milioni di euro di morosità. Per quanto riguarda gli sfratti, noi abbiamo un tavolo in prefettura dove ci riuniamo, Regione, Comune, Forze dell'Ordine. Abbiamo messo 20 milioni di euro per quanto riguarda il recupero di alloggi sfitti. Teniamo anche conto che per quanto riguarda il fondo sostegno all'affitto proprio, cioè a quelle famiglie che hanno bisogno di un aiuto, Regione Lombardia ci ha messo 13 milioni più 8 milioni e 7 in una manovra decisa a metà dicembre. Tenendo sempre conto che il governo che un tempo dava sostegni importanti, dava fondi importanti, adesso è a zero. Perciò noi dal governo non abbiamo nulla per dare una mano alle famiglie. Per proposito di governo avete discusso di quello che si sta discutendo in queste ore a Roma per quanto riguarda la Tasi? Ce l'avete affrontato oggi? Beh, affrontiamo il tema IMU. Io spero tanto che si tenga conto che le aziende che si occupano di case popolari non sono delle immobiliari private che fanno profitto, ma noi diamo veramente una risposta alle famiglie bisognose. Com'è possibile tassare le case popolari tal quale appartamenti privati? Cioè è un controsenso. Aler Milano, se vogliamo scendere nei particolari, ha pagato 33 milioni di IMU. Cioè è una cosa fuori di testa. 33 milioni che potevano essere messi nelle manutenzioni, per esempio. Potevamo, con 33 milioni si potevano recuperare altri alloggi. Se le cose non cambiassero, parliamo di quasi 50 milioni di IMU per quanto riguarda la totalità delle aller lombarde.